amore ciao amore che fai a niente mi sto prendendo il tè bello caldo e guardo il film amore ma sei solo certo che sono solo sicuro 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 e ti fidi di me si sempre i stessi discorsi vai un po in giro vado in giro a fare che amo non c'è nessuno sono solo fammi vedere il film fammi vedere il tè per favore in giro per casa in giro per casa non c'è nessuno lo vedi qua nessuno va in bagno che cosa devo fare in bagno devi fare pipì non devo fare pipì eh amore stai bevendo il tè qua non lo sto bevendo il tè perché non me lo stai facendo bene sta diventando freddo amore si fidati qua ti accendo pure la luce così sei bella tranquilla non c'è nessuno la c'è il cambiamento il bidet vai in cucina in cucina che cosa non c'è nessuno in cucina amore sono da solo amore apri il frigorifero ma che devo aprire non te lo apro il frigorifero cosa nascondi nel frigorifero due atti di prosciutto e quaccio di ursel ma perché non lo apri te lo apro ma sei dissettita guarda lo vedi non c'è niente anzi avevo dimenticato che avevo le carote scusami amore vai nel forno nel forno non c'è niente sono le teglie ci sono e dentro le teglie vuote vuote la pasta a fondo è finita e negli stipetti amore i biscotti la nutella la pasta le posate le tovaglie sotto il letto mi stai facendo fare il giro della casa cosa c'è sotto il letto niente le pantofole ci sono sotto il cuscino chi si nasconderà mai sotto il cuscino il pigiama sotto il tappeto gli acari della polvere sotto il tappeto si possono nascondere ma nel comodino il comodino è piccolino il cassetto dalle mutande e cosa c'è dentro le mutande dentro il dc non c'è nessuno qua dentro dentro la doccia non c'è nessuno dentro la vasca non ce l'ho la vasca sei tu nello specchio dietro la tv via l'antenne che cosa ci deve essere sono tipo amo per favore dentro la tv dentro la tv c'è il film che mi vorrei vedere ma che tu non mi fai vedere mi fai chiudere per favore basta amore basta va bene ti credo ti credo abbiamo fatto la visita guidata di casa mia grazie che mi credi dai amore ti lascio guardare il film è finito il film amore stanno facendo la seconda di stagione va bene allora ti lascio bere il tè è diventato una granita il tè va bene ciao ciao oh potete uscire me lo male che siete magra amone ciao 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 Grazie a tutti.